Il Stuto Comprensivo di Medici di Siracusa è una scuola trattiva per quanto riguarda la formazione dei cittadini nell'ambiente. Si rivolge a questi progetti non soltanto gli enti locali ma anche le associazioni di categoria e le imprese che sono nel territorio. Per cui mettiamo in campo una sinergia costante tra la scuola che educa questi ragazzi e le famiglie, ovviamente attraverso i nostri alunni e le famiglie hanno una ribaduta dell'educazione che noi nelle conoscenze trasmettiamo a scuola e poi questa sinergia continua con il territorio. In realtà questa sinergia si ricerca a livello regionale attraverso un progetto definito di differenziamoci che ingloba 150 scuole della regione Sicilia e vende la partecipazione comunitaria interistituzionale a livello regionale.